Qual è il contributo del Comitato Tecnico Scientifico per un'associazione come ISI che racchiude il mondo accademico, quello istituzionale e quello delle imprese? Il contributo del Comitato Tecnico Scientifico è un contributo di indirizzo e consultivo. Di fatto il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato una volta all'anno, generalmente verso febbraio e si trova a discutere su quali siano gli indirizzi nei quali l'associazione dovrebbe essere maggiormente attiva per l'anno a venire. Questo generalmente influenza sia i contenuti del congresso e dei convegni che ISI si trova a organizzare, sia da un indirizzo di carattere scientifico evidentemente a quello di cui le commissioni interne a ISI dovrebbero occuparsi nella redazione dei propri documenti e dei propri studi. Quindi è di fatto un Comitato di indirizzo a tutti i difetti e di consulta. Mi detta le linee su cui poi si va ad intervenire nel corso dell'anno? Cioè di anno in anno si discute di quale si ritenga sia al momento la linea prevalente. È chiaro che ad esempio al momento attuale la sostenibilità è uno degli aspetti di rimenti, così come messa in sicurezza del patrimonio edilizio, però anche in questo si va un pochino più nello specifico sulle varie tematiche. Grazie.